carissimi amiche carissimi amici eccoci giunti alla quattordicesima domenica del tempo ordinario siamo nel piena estate e lo vediamo già dalle temperature infernali presenti un po in tutta l'italia ma lasciamoci guidare per un istante dal vangelo troviamo il tempo anche per riflettere sulla parola di dio ci guida il vangelo di lucca al capitolo decimo in quel tempo il signore designò altri 72 e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi diceva loro la messa è abbondante ma sono pochi gli operai pregate dunque il signore della messe perché mandi operai nella sua messe andate ecco io vi mando come agnelli benzo e lupi non portate borsa né sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada in qualunque casa entriate prima di te pace a questa casa se vi sarà un figlio della pace la vostra pace scenderà su di lui altrimenti ritornerà su di voi restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa non passate da una casa all'altra quando entrerete in una città e vi accoglieranno mangiate quello che vi sarà offerto guarite i malati che vi si trovano e dite loro è vicino a voi il regno di dio i 72 tornarono pieni di gioia dicendo signore anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome egli disse loro vedevo satana cadere dal cielo come uno folgore ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico nulla potrà danneggiarvi non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli carissimi luca ci ha già parlato di un invio dei dodici da parte di gesù per annunciare il vangelo del regno ora però mostra come egli voglia allargare ulteriormente il suo raggio di azione nell'annuncio coinvolgendo nella visione un gruppo di 72 discepoli e questa cifra certamente ha una valenza particolare per luca perché suggerisce proprio la destinazione universale dell'angelo quindi la necessità che la chiesa si apra a tutte le genti per formare la comunità del tempo della salvezza infatti questo numero 72 richiama per un verso i 70 popoli con cui il capitolo 10 della genesi descrive l'umanità di origini e per l'altro implica il numero 12 collegato invece alle tribù di israele ogni tribù aveva 12.000 persone per cui formavano un totale di 100 44.000 ma inoltre questo numero richiama l'episodio raccontato anche nel libro dei numeri delle fusioni dello spirito oltre che sui 70 anziani su altri due eldad e medad e dunque la missione dei 72 è sotto il segno dello spirito e gesù dà anche un vademecum per la missione non devono portare molte cose con sé non devono appesantire il loro viaggio devono essere spogli di tutto perché l'annuncio del vangelo è prioritario e allora con questa consapevolezza loro potranno partire e annunciare il vangelo l'urgenza del tempo è evidente non si può perdere tempo non ci si può attardare i discepoli mandati missione non possono disperdere le loro energie magari semplicemente per provvedere a necessità personali e materiali a questo ci penserà il signore ma attenti però perché la missione suppone anche la non accoglienza da parte della gente anzi il rifiuto gesù per questo non assicura i suoi inviati il successo della missione devono infatti aspettarsi sia il rifiuto ma anche le grandi difficoltà senza però scoraggiarsi allora ecco alcune istruzioni importanti come quelle di scuotere la polvere dai calzari pur di non avere più legami con chi ha rifiutato il vangelo e potrebbero risultare utili anche le altre parole che vogliono semplicemente liberare l'annunciatore dall'ansia ossessiva di trovare accoglienza e di sperimentare il successo cari amici la nostra chiesa non è quella del successo ma è una chiesa che deve rinunciare alle cose del mondo per annunciare l'unica verità che è cristo allora liberiamoci da tutti gli orpelli che ci impediscono di essere liberi interiormente perché la cosa più importante è annunciare il regno di dio buona domenica e buone vacanze a tutti voi